Ciao a tutti amici di YouTube, vi è indubbialmente capitato diverse volte di avere il sistema frizzato, ovvero bloccato su un determinato processo e l'unico rimedio è un riavvio o arresto forzato. Questa soluzione estrema e drastica è possibile farla attraverso una command line che induce alla chiusura forzata di tutti i processi attivi, in modo tale da poter spegnere il PC. Avviamo il prompt dei comandi ed eseguiamo la linea di comando poco fa menzionata. I parametri da prendere in considerazione sono S che arresta il sistema, R che arresta e riavvia il computer, poi T che riguarda il tempo, addirittura si può impostare un arresto e un riavvio dopo 10 anni come se un utente tenesse accesso il terminale per tutto questo tempo, ed infine F che probabilmente è il parametro più serio che conduce alla chiusura forzata dei processi. Adesso apriamo il classico blocco note, impostiamo l'output ad off in modo tale che non ci siano output di notifica e command line, non fate caso se scrivo la chiocciola dove non è indispensabile ma è una questione d'apitudine. Scriviamo shutdown ovvero arresto e impostiamo alcuni parametri che abbiamo visto prima, ovvero arrestiamo il sistema con S con tempistica T pari a 0, l'impostazione di default sarebbe di 30 secondi ma noi non possiamo permettercelo, soprattutto se rischiamo un crash del sistema operativo, ed infine la F per rindurre la chiusura forzata dei processi attivi. Infine come se fosse implicito, exit, così terminiamo il nostro script. Lo salviamo come file batch, per semplicità scelgo come posizione il desktop, visto che è la parte più accessibile ed immediata del sistema, testiamolo, intanto sono in macchina virtuale, una cosa che vi voglio dire è di non approfittarvene ad usarlo, perché sarebbe meglio ad operarlo solo in caso di necessità, spegniamolo normalmente il PC se non riscontriamo problemi. Un altro consiglio è quello di spostare il comando in basso a destra del desktop, in maniera da averne subito disponibilità attraverso il comodo pulsante mostra desktop. Per questo argomento è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video.